Cristiano Malgioglio, noto personaggio televisivo e cantante, ha svelato un'interessante retroscena sulla vita amorosa di Enzo Paolo Turchi. Durante la semifinale di tale quale show, Malgioglio ha rivelato un dettaglio su una vecchia relazione del ballerino, suscitando curiosità e dibattiti. Questo gossip ha portato alla luce un lato poco conosciuto di Turchi, noto per la sua lunga relazione con Carmen Russo. La rivelazione di Malgioglio è avvenuta durante un'imitazione di Don Lurio, interpretata da Justine Matera. Cristiano ha dichiarato che Enzo Paolo Turchi avrebbe avuto una storia d'amore di due anni con una donna cubana portata in Italia da Don Lurio, che ha poi intrapreso una carriera nei teatri di Las Vegas. Malgioglio ha anche rivelato che questa donna, dopo una delusione amorosa, è diventata una suora di clausura, aggiungendo maliziosamente. Chissà se Carmen Russo lo sapeva, ora lo sa. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, insieme da oltre 40 anni, hanno recentemente affrontato una crisi. Turchi ha confessato di avere avuto dubbi sul loro rapporto, temendo di non essere più all'altezza delle aspettative della moglie. Tuttavia, la crisi è stata superata con l'ingresso di Carmen nella casa del grande fratello, dimostrando la solidità del loro legame. Malgrado le rivelazioni di Malgioglio e i misteri che circondano il loro passato, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo rimangono una delle coppie più longeve e amate dello spettacolo italiano. Il loro legame sembra in grado di superare qualsiasi ostacolo. Cristiano Malgioglio, con il suo stile ironico, ha contribuito ad alimentare il fascino di una storia che continua a intrigare.